Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xhooter e ragazzi ci siamo ragazzi ci siamo Epic Games appena rilasciato il secondo teaser ufficiale relativo alla stagione numero 6 di Fortnite Una stagione ragazzi che promette davvero un sacco di novità un sacco di robe interessanti Sia per quello che riguarda il gameplay che per quello che riguarda la mappa Dovrebbe arrivare ragazzi tutta la neve ma sembrerebbe ragazzi che con il teaser di oggi Forse sia confermata anche la zona del Far West Andiamo a dare un attimo un'occhiata ragazzi Sgraal all'immagine che ci hanno rilasciato proprio ieri ragazzi Quella con il lama futuristico che non abbiamo ben capito bene quello che volessero far intendere Abbiamo solamente capito che il lama potrebbe essere non cattivo Quindi il salvatore della parte oscura di ogni personaggio che arriverà fra pochissimo Su Fortnite tutti i doppelganger che sono il tema in poche parole l'oscurità e la luce della season numero 6 Ma ragazzi state pronti attenzione Mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo ragazzi Eccola 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 sbadan Nuovissimo teaser ragazzi Nuovissima immagine Sempre con il cubo ragazzi Alle spalle Di questa simpatica e meravigliosa ragazza Che vista così ragazzi mi sembra la controparte Femminile Non so perché mi da l'idea del signore della ruggine Perché quella roba che c'ha qua Sono gli spuntoni esattamente uguali a quelli che c'ha il tizio Ma il cappello da cowboy con il bufalo con le corna stampato in alto Mi fa molto pensare ragazzi Che questa skin potrebbe assolutamente essere relativa ad un probabile rientro O meglio ad un probabile arrivo del far west Veramente bellissima come skin ragazzi Interessantissima molto particolare Per il momento ragazzi sappiamo solo Che da questo cubo ne uscirà ancora di roba Non è detto che non torni Non è detto che sia finita qua E non è neanche detto che il lago creerà la lava Che poi potrebbe appunto uscire da un vulcano È ancora tutto avvolto nel mistero Beh ragazzi io vi ringrazio Per aver guardato anche questo secondo video Ditemi qua nei commenti come vi sembra Questa skin Cosa ne dite ragazzi Un super like soprattutto Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live stasera Ciao Ciao A presto!